Andiamo a fare questo lavoro con uno alla volta, uno inserito, mettiamo anche l'altro dettaglio, inserito anche quest'altro e andiamo a mettere anche il terzo dettaglio. Ed ecco qua ragazzi, ecco fatto. Adesso in poche parole ragazzi ci fanno andare a mettere in questi due piccoli punti quest'altro dettaglio, però io ragazzi non l'ho fissa ancora con la colla perché poi montando il terzo fumaiolo, sicuramente ragazzi lo andremo a togliere per poi riposizionarlo in modo definitivo e questo ragazzi va inserito in questo modo. Eccolo qua, e questo ragazzi abbiamo fatto. Adesso andiamo a prendere dalla griglia che abbiamo ricevuto nell'uscita 51, la vado a recuperare, la griglia che va inserita praticamente incollata qui è l'unica più grande rimasta che sarebbe questa qui, quindi la andiamo a staccare e la andiamo ad incollare al supporto andiamo a prendere la nostra griglia ed eccola qua ragazzi, perfetto e abbiamo fatto anche quest'altro lavoro. adesso non ci resta far altro che andare a mettere delle finestre recuperando dall'uscita precedente e ne dobbiamo andare a posizionare quattro, quindi uno, due, tre e quattro ragazzi andiamo a fare questo lavoro e abbiamo completato il numero 53, andiamo a fare questo lavoro vi faccio vedere giusto la prima poi ragazzi le altre sono tutte uguali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ed ecco qua inserita la prima, adesso si va a fare la stessa operazione per le altre tre e vi faccio vedere il tutto una volta finito grazie a tutti